Ma è novità? Dottore stamattina c'è stato un nuovo arrivo, un nuovo malato mentale Pericoloso Pericoloso e lui crede di essere un pesce E allora lo sistemiamo in piscina Dottore a prima mattina proprio queste battute Ragazzi ragazzi almeno durante le visite un po' di ordine Questa qua crede di essere Sandra Milo Vuole una trasmissione tutta sua Non fa altro che dire Ciro, Ciro, Ciro E allora abbiamo perso E quello là? Dottore questa è la mia spina nel cuore Dalla mattina alle 8 Dalle 8 della mattina che si alza fino alle 5 del pomeriggio Che torna nella stanza Sta sempre là con l'orecchia attaccata al muretto Ok, e perché? E lo vuoi sapere da me Dottore che ne so io Che ne so la testa è lusa Ora vedete la turma si matta Che io vado in infermeria Va bene Salve Ssss Sì Che stai facendo? Salve Dottore sto sentendo i rumori Stai sentendo? I rumori Oh, è la grande Posso sentire pure io Com'è? Aspetta, fammi finire qui Metti da qui che si sente Qua? Sì Qual è il punto? Più o meno occhio e croce un po' C'è un muretto C'è un muretto Aspetta 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 Chi è? Rumori E rumori E qua non si sente niente? Non si sente niente Dottore ti giuro Tutto il giorno così Niente Cioè non senti niente